Buonasera a tutti, benvenuti a un nuovo appuntamento dell'In Linea con l'Economista, puntata attesissima dopo le grandi turbulenze di ottobre, siamo rimasti fermi sulle nostre posizioni rialziste, non ci siamo fatti spaventare da nulla e abbiamo detto testuali parole possibile posticipo del nuovo trend rialzista. Oggi parliamo proprio della partita che si sta giocando sui mercati, i rischi, quali sono le problematiche e quali sono le cose che dobbiamo vedere. Ovviamente alla fine come sempre sono i livelli volumetrici che comandano i posizionamenti e tutto il resto sono chiacchiere, però da un punto di vista macro alcune cose li dobbiamo dire perché dovete cercare comunque di capire quali sono le grandi difficoltà che ci aspetteranno comunque in futuro, ma in ogni caso quali sono quei problemi che possono in qualche modo pressare in qualche modo sull'andamento del mercato, anche se in realtà alla fine lo avete visto da inizio anno, vi ho sempre detto bassissime probabilità di inversione, i mercati stanno prendendo la loro direzione. Stiamo entrando nella fase più importante dell'anno, dalla prossima settimana, ovviamente dal primo novembre, data di inversione, novembre mese rialzista, adesso parleremo anche di questo, ma da lunedì esattamente fino alla prima decada di dicembre i mercati tendenzialmente possono fare qualcosa di straordinario, quindi raggiungere per alcuni addirittura possibili nuovi massimi storici, di questo lo vedremo, ne parleremo graficamente. Saluto tutti quelli che stanno entrando, buonasera a tutti, come sempre un piacere per chi mi ha chiesto la situazione della mia dieta, visto che è stata una domanda ricorrente dopo il live con Luca, in questo momento ho perso circa 26 chili e ho aggiunto altri 2 chili di massa muscolare, un lavoro enorme, purtroppo sono a tre quarti del cammino, ma l'ultima parte è quella più difficile. Vi aggiorerò poi il mese prossimo perché domani ho l'appuntamento con il medico e vi dirò esattamente quali sono i risultati raggiunti, sicuramente sono straordinari per i tempi strettissimi in cui sono riuscito a fare questo cambio di vita, però vi farò sapere poi come andrà a finire, da un punto di vista fisico ho recuperato tutto il mio vigore, ho aggiustato tutti quei punti che non andavano bene sul mio corpo, ci sono delle problematiche legate purtroppo al fatto che più di tanto non riesco a mangiare, quindi devo purtroppo usare dei supplementi, anche se naturali, per riuscire poi nella mia attività quotidiana. La cosa incredibile, diciamo quello su cui avevo dei dubbi, è la capacità del corpo umano a livello di resistenza, nonostante faccio una media lavorativa di 12 ore al giorno e devo anche allenarmi, nonostante mangi poco riesco comunque a mantenere un vigore enorme, quindi complimenti alla mia dietista più che altro perché ero molto scettico, ma sono estremamente contento, ecco, erano penso più di tre anni che non sentivo un vigore di questo tipo, quindi per chi mi ha chiesto, ho ricevuto molte domande da questo punto di vista, nel mio caso ovviamente il prodotto di cui abbiamo parlato con Luca era un prodotto adeguato, non è un prodotto diatetico, come vi avevo già detto, non è qualcosa che si prende a cuor leggero, quindi spero di riuscire a concludere il ciclo in circa tre mesi, poi vi dirò ovviamente anche come andrà il mantenimento, perché poi dovrò fare un lavoro di un altro anno solo per stabilizzare poi il peso e fare in modo di non tornare mai più sugli errori del passato. Come, diciamo, è un po' come il percorso del trading, ecco, quindi ci sono momenti difficili, ma se uno è tenace, crede in se stesso e ovviamente fa i passi giusti, si possono ottenere risultati straordinari. Detto ciò vi ringrazio per il fatto che mi chiedete, quindi siete sempre molto gentili, quindi molte grazie per chiedere ancora una volta questo punto. Continuiamo, andiamo a vedere un po' gli indici, andiamo a parlare un po' di mercati e ovviamente voi lasciate le vostre domande, io tolgo la telecamera, ovviamente così occupiamo direttamente lo spazio al nostro grafico. Oggi vorrei cominciare con un grafico speciale che non prendo, ovviamente, sempre, poi andiamo a vedere tutti i livelli, tutto quello che volete, però è qualcosa che dobbiamo guardare insieme e ragionarci su. Sto parlando del grafico del bond a dieci anni. Dovete capire che in questo momento il fatto che metto un grafico magari in H4, lo vediamo meglio, non troppo grande perché bisogna vedere il trend da cui, vediamo se sul daily si vede meglio, voglio vedere, ecco qua, tutto il trend che è iniziato dal 2020 e dove siamo arrivati. Il mercato in questo momento ha fatto dei cambiamenti spettacolari, molti di voi hanno fatto confusione, in realtà non è stato Powell la causa scatenante, ma esattamente la Jelen. Quando il primo novembre, prima della, diciamo, della sessione di Powell, c'è stato, io vi accennei già a qualcosa, anche durante la sessione di Scalpi, c'è stato un evento importante che era l'asta dei bond, quindi che cosa è successo? La Jelen, intelligentemente utilizzando, è un lavoro in tandem, stanno lavorando insieme, in pratica, Powell e la Jelen, la Jelen, ovviamente tenendo presente che la Fed sta mantenendo i tassi alti, quindi ha potuto fare una manovra che è piaciuta molto ai mercati, ovvero incrementare le emissioni sulla parte breve della curva, quindi bond a due anni al 5%, qualcosa molto gradito, quindi attirando i compratori e diminuendo le emissioni sui bond a 30 anni, quindi quelli di lungo, in questo modo evitando nuove pressioni ribassiste sui mercati e sul mercato dei bond, e quindi consentendo l'idea che l'America ha delle grandi difficoltà e quindi dovendo mettere di più sulla parte lunga della curva, vuol dire che è molto vicino a una recessione, a problemi economici graia. Al di là del fatto che ci sono dati chiari della situazione americana, soprattutto il consumatore americano è praticamente nella cacca, perché l'80% degli americani si ritrova con grandissimi debiti che non sta pagando sulle carte di credito per mantenere lo stile di vita, problemi nel pagare i mutui, e ovviamente la sua capacità di consumo è diminuita notevolmente, anche gli ultimi dati sull'occupazione ci dimostrano proprio il fatto che gli americani non pensano più a stimoli monetari, altre cose, perché risparmi quelli che avevano accumulati al 2020 sono finiti, quindi situazione ovviamente che in futuro dovrà essere studiata, ma io vi ho detto già più di una volta che una delle chiavi del mercato non è l'economia, ma è la finanza. Nonostante la logica ci dice che il mercato dovrebbe scendere, perché l'economia non sta messa bene, nell'economia mondiale, l'Europa non la menziona proprio perché è inutile, Cina sale ma lentamente, grandi problemi interni, e gli Stati Uniti, situazione incredibile, con un debito che continua a salire, una crescita basata su una spesa pubblica indiscriminata, cioè qui c'è molto da parlare, ma a noi non interessa in questo momento, anche perché noi vogliamo arrivare bene a fine anno, poi avremo tempo per fare le analisi per il nuovo anno. Sappiamo che comunque ci sono dei problemi legati alla credibilità degli Stati Uniti, abbiamo le agenzie di rating, ma non gliene frega più niente a nessuno, rischi negativi per la solidità fiscale degli Stati Uniti, abbiamo problemi sulla sostenibilità del debito, ed è lì che nasce tutto, tutto ci lascia perplesso, diciamo, vai, non c'è niente, non c'è una base su cui comprare. Allora perché, nonostante, dopo i non-farm, però il 3 novembre o il 14 novembre, il mercato dopo l'inflazione è salito in quel modo? Perché stanno entrando questi acquisti sui mercati? È molto semplice. Come sempre vi ho detto, non è la realtà dei fatti che fa cambiare la direzione del mercato, ma quello che si sconta. Cosa scontano gli operatori? Ed è lì la chiave. Gli operatori in questo momento stanno scontando una sola cosa. Powell ha finito di fare l'aggressivo, può parlare quanto vuole, la politica monetaria restrittiva è al suo termine, perciò che cosa hanno fatto? Ed è questa la ragione per cui vi ho proposto questo grafico. Perché il bond stanno salendo? Se poi, ovviamente, l'aumento del bond, cioè comprare il bond, significa anche, non sconta solo un fattore tecnico, ma soprattutto di quanto può essere forte l'economia o gli scenari inflattivi. Quindi, che cosa stanno scontando i mercati in realtà? Una cosa molto semplice, sono tutte aspettative a ribasso dei tassi da parte della Fed. In realtà, la Fed ormai è pronta per tagliare i tassi. L'idea di che stanno scontando adesso, poi ovviamente può cambiare il mese, la quantità dei basis point, ma in realtà stanno scontando che a luglio si tagliano addirittura 50 basis point e che durante tutto l'anno si ne aggiungeranno altri 100. Traduzione significa che per i bond se arriviamo a 150 basis point addirittura sarebbe il top, tutto è possibile. Su bond decennale il rendimento solo del valore del bond avrebbe almeno un 10%, su quello tra internale è superiore al 30%, è un pacco di soldi, una delle migliori chance e opportunità che si vedono raramente in un decennio sul mercato dei bond. Quindi la risalita dei bond, l'acquisto dei bond anche sulla parte lunga della curva che è stata determinata proprio da quello che ha fatto la Yellen sta portando ovviamente a un copioso acquisto sul tech in primis e poi sull'SP e soprattutto ovviamente anche le small cap con il Russell. Questo perché se io vado a scontare un taglio dei tassi la prima cosa che faccio vado a comprare i titoli con una maggiore duration finanziaria quindi i tech. Ecco perché state assistendo a questi movimenti poi ci sono anche motivi tecnici stagionalità mese di novembre tra i più rialzisti dell'anno gli etf i fondi comprano le azioni ovvero fanno quegli acquisti che devono fare periodicamente durante l'anno uno di questi mesi è anche aprile per esempio poi le grandi società americane cominciano i buyback ovvero il riacquisto di azioni tutto va secondo copione tutti vogliono entrare perché perché non si vogliono perdere il treno un altro 10% dell'SP lo può mettere in canna quindi a fine anno si presentano ai clienti bei conticini molti sono rimasti fuori da questo mercato nel primo semestre quindi nonostante qualche turvalenza e il primo novembre abbiamo assistito all'inversione dei mercati quali sono i problemi di tutta questa situazione a parte l'inflazione che non ci interessa più tanto l'inflazione è in trend discendente da luglio l'abbiamo detto i dati macro sì i dati non sono buoni le vendite al dettaglio non sono buone l'inflazione scende perché è qualcosa che già stavamo vedendo da mesi quindi anche l'abbassamento dei consumi porta a questa situazione il mercato del lavoro non ce ne frega nulla perché si sa che l'americano in questo momento si tiene stretto il lavoro e poi giocano un sacco con le manipolazioni cosa in realtà che ci deve preoccupare nei prossimi mesi almeno per farvi capire dove i problemi sono nei dettagli non in quello che sono i dati macro di per sé molto volte in questo caso il mercato ha un problema e sono proprio la parte lunga dei bond i bond trentennali vi spiego perché rapidamente poi passiamo ai grafici la Yellen ha un margine molto ridotto di aggiungere emissioni sul breve siamo arrivati a un 20% massimo potrebbe arrivare a un 25% sono stime fatte da Berkeley una volta che raggiunge questa percentuale dovrà cominciare a mettere di nuovo sulla parte lunga della curva il che porterà nuove pressioni sui bond il che potrebbe riportare i tassi tranquillamente sul decennale sopra il 5% quindi non è che il 5% non lo vedremo più ve lo dissi quella è una barriera che provoca non pochi problemi la cui rottura tanti derivati clausole knock-in le banche ci devono rimettere un bel po' di soldini però in realtà non è che il problema è stato risolto questo verrà posticipato da gennaio in poi un paio di mesi sono stati presi ma da gennaio in poi la situazione può cambiare nel senso non è che i mercati crollano perché comunque ci sono le elezioni è molto difficile vedere un crollo del 40% o 30% come tanti dicono almeno l'anno prossimo anzi io sono convinto che se tutti i tasselli andranno al loro posto vedremo il vero bull market che ancora non è partito contrariamente a quanti molti pensano siamo solo agli inizi di questo potenziale bull market quindi dovete capire che c'è un consenso su un trend del ribasso dei tassi obbligazionali per cui questo significa cripto oro borse tutto su ma livelli che possiamo solamente immaginare o reputare impossibili diventano realtà qualcuno dirà ma forse stiamo volando troppo alto no questo è quello che sconta il mercato non quello che penso io io posso sono anche magari contrario su alcuni punti ma non in questo momento la mia opinione vale come il 2 di coppia nella briscola non ha nessun senso semplicemente perché più del 70% di opera di Wall Street sta scontando il taglio dei tassi poi magari qualcuno dirà sì ma poi dopo che sconta più per salire in realtà non è quello il problema in realtà ci sono tantissimi problemi dovrei stare ora a elencarveli tutti per farvi capire ma in realtà c'è un problema legato innanzitutto ai bond perché comunque l'America deve continuare a emettere un botto quindi secondo me almeno un altro anno e mezzo riescono a recuperarlo poi dal 2025 ci saranno i primi avvisaglie che qualcosa si comincia a incrinare ok il problema di fondo che dovete capire che quando parliamo di bond ci sono tante variabili da tenere in conto ci sono la pressione sui pezzi sui rendimenti dipende soprattutto dall'appetito degli investitori dalla domanda del mercato come viene fatta l'asset allocation dei fondi dei rendimenti sulla parte breve e quella lunga sulla curva quali sono le prospettive sui tassi in questo momento abbiamo che i tb da sei mesi sono superiori al rendimento decennale quindi non conviene stare su questo ma forse è troppo semplice dirlo così perché magari fra sei mesi avrò un tasso diverso ed è un gioco un po' complicato se invece vado a investire su quella lunga posso bloccare il rendimento per molto tempo tutto dipende dalla politica della Fed quindi se la Fed continua a fare la famosa politica Eiger for Longer che poi non la può fare perché questo distrugge l'economia cioè essere hawkish essere restrittivo vuol dire che il soft landing di cui parla Paolo l'atterraggio morbido dell'economia non ci può essere quindi possono mantenere credo altri sei mesi di urla strazianti e di diciamo dicembre non mi aspettate che Paolo arrivi e faccia rose e fiori sarà cattivo aggressivo le condizioni finanziarie non migliorano se poi salgono i bond e le azioni e quindi darà una spallata ecco perché vi ripeto poi dobbiamo vedere come funzionano queste spallate quali sono i ritracciamenti ma per ora per almeno altre tre settimane non vedo grossi problemi quindi se la Fed dice una cosa e il mercato ne sconta un'altra qualcosa non va c'è una confusione quindi è una situazione non semplice da gestire poi ci sono altri problemi tra cui ad esempio dobbiamo tenere presente altre cose che molti non vedono per esempio il Giappone avete visto che cosa ha fatto Giappone ha messo un rendimento all'1% flessibile perché tecnicamente non può mettere uno fisso perché se i giapponesi abbandonano i bond mondiali quindi europei americani australi dove stanno di più e tornano a casa sui buoni giapponesi si crea un'ulteriore pressione di bassista ecco perché lo yen sì adesso sembra dare qualche segnale ma perché c'è il c'è il dollaro che scende siamo in una fase di riscon ma comunque non possono cambiare la politica monetaria se non rischiano di fare disastri è tutto un incastro di fatti quindi la Fed per ora rimarrà lì a urlare ma non gli crede più nessuno ok qui vogliamo parlare della performance dei magnifici 7 100% in media da inizio anno e un 40% del Nasdaq tutti lunghi sui tech alla grande non c'è modo di far cambiare idea a nessuno quindi in questo contesto c'è un sovrappeso di posizioni i fondi hedge hanno chiuso le posizioni short si sono presi una sonora abbastonatura l'inflazione scende mercato delle opzioni le put costano una a ribasso ovviamente costano mediamente il 30% in più per farvi capire tutti a proteggerci ma quando il mercato non scende poi sulle materie prime sono tutti short anche lì tutti un sacco di robot automatici sono short tutto al contrario cioè sta succedendo esattamente il controllo dei posizionamenti degli operatori quindi alla fine perché il mercato sale le aspettative i banchi centrali ormai sono alla frutta con questa politica restrittiva ormai già stanno benettendo liquidità in forma nascosta tra virgolette l'inflazione sta scendendo come vi ho detto gli americani ormai si devono tenere stretti il posto di lavoro e gli utili torneranno a salire ancora di più dall'anno prossimo quindi la ruota si può girare perciò fino a questo momento voi non avete visto altro che solo l'inizio di un probabile normale poi qualcuno dirà sì il mercato deve scendere perché questi sono impazziti va bene io però posso aprire gli short multi day solo se vedo determinati livelli abbandonati se no io non credo a nessuno di quello che si dice bisogna guardare quello che succede perciò a conti fatti ci troviamo in una situazione fantastica nel senso che alla fine facendo il punto della situazione ve l'ho fatto in maniera molto breve perché i tempi sono sempre stretti dovete capire che questa è una situazione in cui la fed non cambierà il suo messaggio ma non cambierà niente se gli operatori non gli credono e io non ci ho mai creduto lo sapete per me può urlare quanto vuole non nessuno ci crederà perché i tassi deve comunque tagliare poi magari fanno dei rialzi poi dei tagli questi poi sono discorsi che riprenderemo magari fra 12 mesi ma in questo momento tutti vedono un scenario di rialentamento della crescita con un progressivo calo dei tassi ed è questo che è quello che stanno scontando tutto qua poi vorremmo parlare anche delle leve che stanno usando molti fondi lasciamo perdere anche qui c'è un bel problema ok perché lì questi sono sempre i problemi che poi creano tensioni nei mercati no tenete presente che i magnifici 7 su tutto il mercato americano sono solo un puntino quindi anche gli etf che revono gli indici di borsa gli indici tematici no creano un meccanismo perverso che convoglia flussi di acquisti sui titoli che pesano maggiormente sui indici quindi aumenta il loro valore in maniera sproporzionata quindi il market cap ma ci sono anche titoli altri titoli che devono salire e questo cap valutativo deve essere piano piano chiuso altrimenti sono dolori perché poi se qualcosa va male questi etf poi fanno perdere un bel pozzo di soldi quindi alla fine la mia opinione ovviamente è seguire il trend io da gennaio sono long ho aspettato quei 10 giorni ottobre pazientemente per vedere se alcuni supporti venivano abbandonati non è stato così come sempre vi lascio i grafici che abbiamo disegnato insieme cominciando dall'esp e guardate esattamente dove si è fermato quindi come vedete io ve lo dissi nella vecchia puntata è sempre registrata quindi niente chiacchiere al vento se perde sta zona le cose cominciano a complicarsi guarda caso vedete dove si è fermato ora ovviamente si gioca la partita più importante qualcuno già sta dicendo che i 4.600 non possono essere abbattuti siamo sicuri che sia così dopo un SP che in una settimana fa più 6 qualcosa che non si vede la migliore settimana dell'anno il Nasdaq ha fatto un movimento che non si vedeva da due anni come faccio a pensare che questo non mi va attaccare almeno i massimi storici qual è la distanza che abbiamo dai massimi storici non credo sia tanta no? quanto è il passaggio da 4.500 a 4.800 in 4 settimane credete che non sia possibile è possibile ovviamente quello che dobbiamo fare è andare punto per punto ovviamente adesso stiamo assistendo a una leggera fase di storno però sia chiaro che se noi su base settimanale rompiamo i 4.630 quanto manca per arrivare ai massimi precedenti magari non ce la facciamo per fine anno è possibile però un avvicinamento è possibile io qui ovviamente la situazione la posso cambiare solo esclusivamente se almeno i 4.300 verranno persi quindi devo tornare di sotto dei 4.350 4.300 questi sono livelli da tenere sotto osservazione come supporti settimanali ovviamente se vado al di sotto magari non vendo però fammi vedere cosa succede prendiamo il Nasdaq anche qui se voi vedete la situazione quanto ci manca al Nasdaq per fare nuovi massimi storici ecco l'indice che io candido ai miei famosi 17.000 ci manca uno sputo nel line quindi quanto quanto manca affinché il Nasdaq faccia nuovi massimi storici in barba a tutti i ribassisti poi magari crolla non mi interessa il dopo nel frattempo c'è ancora tre settimane per raggiungere questo target se non di più i 20.000 magari li rimandiamo l'anno prossimo non è un problema però quanto manca per fare un nuovo massimo storico pochissimo e voi pensate che con con dei mercati che scontano questo e che hanno un sacco di liquide da buttare dentro con i retail che comprano come assassini tech quanto manca per il Nasdaq fare mille punti in una settimana non li fa lo conoscete bene lo può fare in due giorni quindi solo la rottura di 14.800 cambia questo 30 finanche rimane sopra questa zona cioè il Nasdaq ha fatto solo l'accenno della rottura delle zone cioè in pratica quattro giorni ha cercato di rompere e poi via se prendo il Dow stessa situazione il Dow si candida seriamente ha recuperato i 34.030 ha fatto la rottura dei 32.700 che era la zona di inversione e subito l'ha recuperata supporto accumulazione sui 34.000 non lo so se può fare nuovi massimi io il mio primo target lo sapete sui 37.000 poi 38.000 però i 36.000 li può attaccare perché no ma questo magari è salito troppo scende su che base deve scendere adesso il mercato il fatto che si è steso troppo ma quando voi vedete un mercato che fa più 6 in una settimana come fate a pensare short e sto parlando di multi day attenzione di mensile qui prima di vedere se qualcosa cambia deve cambiare il sentimento devono cambiare i posizionamenti poi sì che si può ragionare per fare degli short ma tutto il resto sono movimenti in 3 day magari due giorni ma finisce là quindi come vedete tutto il piano è stato ovviamente la bravura nel dover segnare bene i livelli ma tutto è rimasto perfettamente segnato anche sul vecchio Dax la situazione è andata più che bene vedete avevamo i 14.700 14.800 che era una zona scusate sì era una zona chiave però alla fine ha fatto il suo dovere il Dax ovviamente io lo vedo un po' più difficile forse che riesce a fare noi massimi stoci ma relativamente i tempi non sono lunghi il Dax è molto più lento però alla fine vedete recupera i 15.000 poi rompe i 14 15.468 nella zona di resistenza settimanale e via ma non lo so se riesce ad attaccare questo ma se continua così sale come un missile c'è poco da fare se gli scarichi sono leggeri e non eccessivi non vedo il problema perché non dovrebbe fare uno scalico ulteriore quindi noi rimaniamo orientati per ora all'occo poi se cambiano le condizioni i sentiment e i posizionamenti questo si vede settimana per settimana poi il mese prossimo faremo il punto della situazione finale questo è per quanto riguarda gli indici vado a dare un occhio veloce alle domande così vediamo che cosa avete scritto ha senso spostare gli investimenti sul Nasdaq per metterli nel bitcoin no non ha senso fare una cosa del genere secondo me bisogna aggiungere investimenti sul bitcoin il bitcoin l'aveva comprato già prima più tempo passa e peggio è ma short multi day sugli indici non so maria cosa ti riferisci che significa short multi day sugli indici non ho capito questa cosa qual è la differenza tra un trader e uno che non se la senta ancora di fare il trader e solo le posizioni lunghe vabbè ma non il trader è una cosa l'investitore è un'altra il trader deve sopportare pressioni psicologiche enormi deve lottare con se stesso in primis e poi deve deve tradare tanto deve perdere tanto e deve anche accettare che ci sono giornate storte quello che fa solo posizioni lunghe è un investitore compra le azioni li lascia lì e quello è un altro tipo di lavoro quello è quello che devono fare tutti investire a lungo termine facendo gli opportuni rimodimenti se la pensione ve la vedete col binocolo la domanda sulla correlazione poi c'è una domanda sulla correlazione tra bond e mercati azionari no non sono inversamente correlati io sto parlando di non del yield Luca io sto parlando del valore del bond se sale il valore del bond scende il tasso di interesse quindi yield quindi siamo in una fase di risconto e quindi salgono i mercati azionari se sale il yield quindi il tasso di interesse e il valore del bond scende quindi scendono anche i mercati azionari attenzione che io mi riferivo a quello ho parlato di valore del bond non dell'all yield cosa potrebbe rompersi nell'economia il primo campanello d'allarme è il mercato immobiliare negli Stati Uniti io direi di partire da quello poi Marathon Digital vediamo se c'è tempo Dynamic Dine Trace MD non so se ho tempo per vedere questi titoli il tempo è molto stretto su Fuzzimib ah su Trader Club ma quelle sono operazioni a 1-2 giorni Maria non mica sono multi ma allora raga scusate ma quando io parlo di multi day cosa pensate che mi riferisco a me multi day io parlo più di una settimana mica siamo che sono che vado a vedere che ci stanno ah c'è uno short di Nasdaq e uno di Dax no semplicemente quelli là sono operazioni su base settimanale cioè quello è trading di breve Maria non c'entra nulla con quello che sto dicendo io non fate confusione il Trader Club fa operazioni su base settimanale nel senso uno due giorni tre giorni ma finisce là ma io sto parlando di trend generale non c'entra nulla gli short multi day quella roba là viene fatta perché ci sono degli eccessi ma sono eccessi che dureranno poco poi dopo si ritorna a salire non fate confusione ragazzi sono due cose diverse io sto parlando qua facciamo analisi mensile quello che succede oggi che scende un po' non mi interessa allora Volkswagen Fuzzimi Brass ragazzi troppa roba non so se ci riesco e Mario ho capito ma quelle operazioni là sono operazioni di cioè sono fatte per fare speculazioni non lo so se capite la differenza tra speculazione e lungo termine vedete voi io più di quello non so che dire correlazione dollaro gold adesso vediamo la correlazione con il dollaro sì ma non funziona come pensate voi quindi non è quello che pensate voi correlazione dollaro gold è semplicemente una correlazione che perché c'è il dominatore in dollari ma in realtà l'oro sale per la questione che vi ho già detto più volte ci aspetta un decennio di inflazione e si deve adeguare all'inflazione e salirà le banche centrali non occidentali stanno spingendo il prezzo dell'oro quindi il bullion bank il comex non sta facendo più pressione ribassista vi dissi che le correzioni sarebbero state sempre più piccole vi avvisai e come vedete ogni correzione viene assorbita a una velocità pazzesca sull'oro manteniamo una visione a lungo termine rialzista che ciò dal 2019 per quest'anno cercheremo di andare addirittura a rompere i massimi precedenti se ci riusciamo abbiamo poche settimane primo target che ho sull'oro 2004-2005 l'anno prossimo poi vediamo se arriviamo anche a 3 per ora è tutto long la situazione cambia solo esclusivamente la rottura di una di queste due zone 1893-1872 fino anche che non vediamo questo magari andiamo in laterale però la stagionalità per l'oro rialzista comincia il mese di dicembre quindi occhio a queste cose il dollaro scenderà? sì sta scendendo perché hanno comprato dollaro per un anno e mezzo adesso le posizioni da settembre sono firme nel senso non vendono più di tanto ma non neanche comprano quindi l'oro il dollaro lentamente deve cominciare a stornare almeno per ora sul bitcoin il tempo di fare profit dipende dal tuo orizzonte temporale io sul bitcoin ho un orizzonte temporale di altri due anni prima di decidere in parte che prima dell'halving bisogna comprare poi dopo l'halving ancora di più io sul bitcoin quest'anno sto facendo degli studi ma questi valori sono anche difficili da spiegare io per ora il primo target annuale l'ho raggiunto che era l'area dei 35 ai 37 e adesso andremo a puntare tra 40 e 45 almeno comunque il massimo di aprile 2022 poi si vedrà dicembre posso riservare sorprese molto importanti dipende dal vostro profilo di rischio sulle crypto io ho un portafoglio crypto di lungo termine tra bitcoin ethereum e altcoin che ho scelto personalmente quindi personalmente ritengo che se le condizioni del mercato rimangono quelle che si stanno scontando tenendo presente gli etf è la quantità di bitcoin che si devono comprare di ethereum immaginate blackrock che deve emettere un etf il collaterale che deve comprare i valori teorici arriverebbero in due anni anche a 140 180 mila e sono cose tecniche non perché deve arrivare lì a voce cioè il fatto che devono comprare tutto questo tutti questi bitcoin per i collaterali degli etf prima che l'etf poi verrà emesso che poi prima che avrei messo ci vuole tempo e non è che solo perché la SEC lo approva se ne parla a febbraio in ogni caso la deadline è febbraio dipende dal vostro profilo di rischio io qui non posso mettere bocche io ho obiettivi molto ambiziosi su questi strumenti quindi sto comprando da fine anno scorso ho comprato quasi sui minimi io da qui non mi muovo perciò sui minimi qui tra 17 e 22 mila io non mi muovo poi si vedrà ora non vado a vedere il breve termine su questi strumenti no e dipende per me tenendo conto il fatto che comunque il valore teorico è altissimo io sul bitcoin rimango longo poi ci saranno sicuramente momenti difficili con correzioni forti che faranno impaurire il mondo ma il bitcoin è così quindi o lo accettate o non ci entrate proprio cioè non ci perdete la testa a sperare qualche candela che poi non arriva e magari ci vogliono messi io ho aspettato un anno per un rialzo misero perché il bitcoin da 22 è arrivato a 35 37 cioè io ho aspettato un anno per 10 mila dollari di rialzo quindi dovete capire se non avete questo tipo di pazienza non ci pensate proprio a entrare qua sopra poi qua è questione di giorni vedete poi inizia il giro e si tutta l'attesa viene ripagata dipende dal vostro profilo di rischio qua non non dico nulla bonda scadenza lunga sì sono quelli migliori non posso dare indicazioni sui livelli da comprare scordatevelo perché non non è una sala di segnali non qua faccio spiegazioni tecniche Fuzzimib deve arrivare a 30 mila io ho un'operazione operazioni varie operazioni aperte da da marzo aprile da luglio non esco da lì ormai ci manca poco quindi perché non ci deve arrivare a 30 mila ci mancano 800 punti perché non ci deve arrivare al di là dei fatti poi magari lo tengono lì e non lo muovono ma se non perdi 27 mila io non vedo perché il Fuzzimib non ci debba arrivare ormai ci manca poco dipende da dove siete posizionati il gold si acquista sui pullback non sulle rotture comprare a 2000 dollari è una follia il gold andava comprato anni fa comprare a 1900 già andava benino comprare quasi hai un target ambizioso se hai anni di attesa nella tua mente lo puoi comprare se vuoi speculare anche però dipende dal tuo profilo di rischio siamo sempre lì sulla Cina io sono long di lungo termine ma comincerei da adesso perché io sulla Cina ho qualche TF ma ci vuole tempo perché la Cina deve aggiustare parecchi problemi quindi va bene io sul cripto non rimarrò 10 anni ma vorrei arrivare al 2025 sì ma sono altcoin che sono miei personali quindi non vado a comunicare il mio portafoglio perché non sono studi personali non posso dire tutto quindi cerchiamo di chiedere cose che si possono rispondere io comprai a 19.000 e Daniele allora stai a posto se hai comprato a 19.000 per loro potete usare TF TC oro fisico dipende CFD dipende da lungo te Litecoin è bloccato io non non ce l'ho più perché non sale non so perché questo ancora non ho avuto sull'Italia non mi interessa nulla tanto possono dire quello che vogliono ma gli investitori stranieri non so non credo ci crederanno più di tanto però ne parlavamo l'altra volta proprio il problema è legato a una situazione diciamo sul fatto comunque gli investitori stranieri non è che bisogna capire se l'attrattiva per gli stranieri continuano però non è che si possono esprimere giudizi positivi sull'Italia ecco si ti diranno un po' quello che fanno ma io con le agenzie di rating non non ci vado appresso non non mi interessano l'etf è un replicante daniele è normale che va più lentamente etf significa replicante come replica è normale che va un po' in ritardo poi devi vedere che tipo di etf hai comprato l'emissore ci sono tante variabili che devi valutare il natural gas che farà io continuo a aspettare un ultimo rialzo non so se rimpiazzerà il metano così presto però sì quindi più o meno adesso andiamo sui sugli strumenti se non non riusciamo ragazzi i titoli non riesco non riesco perché è troppa roba quindi non non c'ho tutto sto tempo io cerco di venirvi incontro lo sapete però non è una sessione per fare analisi dei titoli ci sono altre sessioni per fare queste cose sul bitcoin abbiamo un supporto a 30.000 30.000 e 2 approssimativamente la zona chiave che deve essere mantenuta su base mensile ci saranno storni magari a 34 33 ma non cambia la situazione qualcosa si può incrinare leggermente solo sotto ma dipende pure se lo fanno veloce se poi recupera quindi per ora vi posso dire solo questo sull'oro già vi ho detto scusate sull'argento sono in attesa di capire se i 24 dollari vengono mantenuti su base mensile sarebbe un segnale rialzista molto forte poi abbiamo l'oro che se rompe i 2000 dollari la resistenza psicologica può cominciare a volare poi vediamo adesso comunque i pullback su base settimanale stare attento sotto i 1950 1948 ma poi dipende se crolla verticale o meno poi perché deve crollare sembra un po' strano qui ho un trend rialzista forte poi magari va in laterale questo sì ma qui non se ne parla di scendere per ora quindi a livello annuale deve romper i 1800 se no qua è neanche molto di più quindi gli accessi o non accessi l'oro è uno strumento che comunque nel momento in cui crolla il dollaro viene comprato e data l'inflazione è sempre qualcosa che verrà comprato quindi ci andrei piano vista la situazione del andiamo al mercato forex però qualcuno mi ha chiesto il petrolio quindi finiamo con le materie prime il natural gas e andiamo a vedere almeno l'euro e la serlita ragazzi sul petrolio c'è un problema di fondo che è legato alla descalation in israele e poi io personalmente non ero un po' scettico sui 100 dollari quando ci fu però io qui il problema è legato a un eccesso di offerta e una domanda cinese un po' in in problematica quindi ovviamente tenete presente che questo è positivo anche per i mercati di discesa del petrolio a minore pressione dell'energia i titoli energetici sono poco comprati siamo arrivati a già un livello storico che è 72 e stare attento ai 68 credo che qui ci possa essere possiedi un pullback ma ci vuole un giro molto forte quindi il petrolio si ha fatto i suoi spike ma poi dopo la descalation ha raggiunto io avevo notato io credo che ne abbiamo parlato in altre sedi ma comunque 82 dollari già da qui 82 85 abbandonati non mi sembrava tutto sto long e quindi non c'erano più segnali rialzisti per cui vediamo se questi valori mantengono mi avete chiesto anche il gas se ricordi sì il gas un momento lo dobbiamo vedere io sul gas ho sempre l'idea che 370 almeno li devi andare a prendere c'è una una situazione di pressione rialzista leggera ovviamente è una fase accumulativa che richiede tempo però io sono convinto che 370 o 4 dolli ci possiamo arrivare però qua sono trade di mesi e mesi stagionalità a favore sia qualcuno a una posizione magari mantenerla potrebbe essere se una pazienza non è una cattiva idea poi abbiamo l'euro che comunque andiamo a vedere un attimo l'euro dollaro anche qui la situazione rimane questa quindi l'euro dollaro rispettato 1.05 avete visto questo era un livello chiave 1.0481 1.0348 i livelli che avevamo calcolato adesso cerchiamo di arrivare almeno 1.10 1.11 poi si vedrà su un grafico daily weekly notate comunque siamo in una fase accumulativa quindi sulla carta se il dollaro continua a scendere qui i valori che possiamo raggiungere sono interessanti e poi ovviamente vedremo cosa tirare alla card l'inflazione europea si benino però io lì ripete solo un riflesso del dollaro sui valori macro lascerei stare sulla sterlina abbiamo avuto anche qui un recupero importante il segnale che è entrato è molto importante quindi il recupero di 1.23 deve essere mantenuto io continuo a puntare a 1.27 non so se ci arriviamo quest'anno perciò il fatto che 1.22 1.21 è riuscito a mantenere i prezzi abbiamo avuto una lunga fase accumulativa il recupero di 1.23 è importante io continuo a puntare a 1.27 quindi è una situazione molto interessante l'argento ho detto che se non rompe se rimane sopra i 24 dollari può partire un nuovo trend rialzista di lungo termine è quello che io sto guardando petrolio abbiamo visto sì stagione da rialzista sì le mie operazioni di lungo termine io ho una marea di piattaforme dipende da quello che devo fare però non posso parlare di altre piattaforme quello che uso io sono per le mie esigenze nel senso per queste cose qui li dovete chiedere a investire punto mezzo io non le piattaforme dipende se compri azioni se compri etf se fai i future io ho varianti di operatività distinte quindi non so quali sono le tue esigenze devi chiedere una consulenza per questo quando ti dico una piattaforma può andare bene per me ma non non è detto che vada bene per te le operazioni di lungo vanno fatte con piattaforme specifiche in Italia avete un sacco di opportunità tra i certificati le banche non vedo il problema per cui basta una banca che abbia tutto ha tutto ormai etf potete fare tutto in un pacchetto studiate le commissioni e ve li gestite lì tranquillamente il Russell si andiamo a vedere il Palladio non l'ho non l'ho ancora seguito bene però si che siamo in movimento interessante andiamo a vedere rapidamente il Russell si avete ragione questo lo devo vedere poi chiudiamo Russell che sono già aspetta 2000 come si chiama qua che io mi vede non mi ricordo la verità non mi ricordo come si chiama non lo so se c'è nella mia lista beh in ogni caso 1800 mantenuto può dare un riraggio verso i 2000 quindi in ogni caso fino a fine anno lo vedo ancora rialzista per il Palladius vediamo un po' che non mi ricordo neanche come si chiama è un botto che non lo vedo un attimo solo anche io ho le mie lacune non ricordo bene quale è quindi devo vedere qui non l'ho mai visto quindi dovrebbe essere xpd eccolo qua il problema del Palladio si effettivamente da qualche segnale di rialzi io lo so perché questa è una domanda che ho ricevuto già qualche settimana fa però sinceramente qui bisognerebbe ragionare a lungo c'è un segnale rialzista interessante non posso dirvi di no però se non recuperiamo almeno i 1120 cioè ci vuole un segnale forte che è duri a rioperare a lungo cominciare a comprare però qui ci vuole un'inversione chiara che non c'è tecnicamente siamo su un livello storico che diciamo dopo questo super rimbalzo secondo me ci sono possibilità di vedere rimbalzi però queste sono trade che bisogna lasciare correre su base annuale se no secondo me non ha molto senso vi dico la verità ci mancherebbe io penso che ho visto tutto ragazzi per i titoli non mi dite niente perché io dovevo finire 5 minuti fa dovete dovete venirmi un po' incontro magari la prossima volta che facciamo il webinar facciamo così così cerco di venirvi incontro magari me li scrivete all'inizio io cerco di vedere il luxo è un'opportunità secondo me AMD si sono tutti titoli che comunque partono con questo trend poi mi avete chiesto altre cose che Volkswagen non lo sto seguendo più da tempo Dynatres è interessante e AMD però sono sempre titoli da mantenere fin quando poi i titoli tirano quando cominciate a fare un 40-50% ovviamente cominciate a stare attenti mettete qualche protezione su Volkswagen io non lo seguo proprio quindi sono una persona meno indicata ormai l'ho abbandonato da anni poi io comunque lavoro principalmente sulla borsa americana sono sincero tutto qua poi per quanto riguarda penso che ho risposto a tutti non ho mai detto che l'oro non si può comprare sulle rotte rotture io sto parlando non so se a volte parlo arabo ho detto l'oro si deve comprare sui pullback perché se voi lavorate a lungo termine dovete comprare i prezzi migliori ma se fate intraday o fate altre cose non c'entra nulla quali sono gli altri strumenti su cui ho detto bisogna comprare sulle rotture forse a volte io o mi esprimo male posso capirlo perché l'italiano lo uso solamente per parlare nei webinar ormai non lo uso più nel linguaggio diciamo di tutti i giorni quindi magari la colpa è mia che io non mi esprimo bene ma non ho mai detto che cioè io in generale non ho mai detto di comprare sulle rotture ho detto semplicemente ci sono dei livelli su cui bisogna ragionare avere potenziali opportunità ma io loro parlo sempre su una base quinquennale io loro ci ragiono su una base di 5 anni non di breve tempo quindi io su loro ho investimenti a lungo non investimenti di breve poi se voi volete fare la rottura perché in quel momento ho 10 dollari di intraday possibili è un'altra cosa ma io non cioè non lo so voi come operate di lungo però io vedo un sacco di confusione non lo so se sono io che capisco male perché non cioè mi mettete in bocca cose che io non dico cioè fate i bravi capisco che magari scrivete male o io mi capisco male però cioè non facciamo confusione io qua faccio analisi mensili e potenzialmente obiettivi di lungo termine quando facciamo scalping facciamo scalping quando parliamo settimanale parliamo settimanale cioè non facciamo confusione io qui sto dando delle idee per il rally di natale che ci può essere a fine anno poi il rally di natale parte il 26 comunque di dicembre non è che parte adesso queste poi sono altre cose molte volte si sbaglia si stanno preparando per il rally di natale quindi concludendo fino a prima decada di dicembre manteniamo una view long poi ci risentiremo dopo l'anima della fede e vedremo se i mercati hanno effettivamente iniziato questo processo di inizio di un nuovo bull trend ok poi vediamo ovviamente dopo la riunione di power però per ora vedete tutto si è incastrato bene dovremo chiudere l'anno almeno con un indice che fanno i massimi storici quindi il Nasdaq vediamo lo vedremo insieme ricordate sempre che le operazioni quando aprite le operazioni dovete studiare tutto quali sono i vostri obiettivi rischi che potete prendere i time frame se vogliamo farlo a una settimana a un mese a un giorno tutto deve essere studiato a menadito e comunque si sbaglierà perché si sbaglia chi investe sbaglia quindi mi raccomando di non lasciare niente a caso ok come lo vedi Mazzarri che mi sa che devo andare a fare una preghiera a San Gennaro ormai il Napoli non lo vedo più perché mi sono disinnamorato mi hanno tolto il gusto di seguirlo almeno che io non vedo neanche le partite comunque bravo Luca che ti sei visto Wall Street altri che sdrammatizzare questo è un dramma però magari Mazzarri con l'età io quando vedo gli allenatori dopo la sessantina hanno in generale o sono rincoglioniti o sono cambiati sembra che Mazzarri voglia usare questa opportunità per rilanciare io lo spero per lui però sinceramente dopo questo caos la stagione per me ormai ormai è persa quindi secondo me il Napoli ha perso una grande opportunità di fare dei cicli importanti però è un'opinione mia personale rimane là però tutto è possibile io mi auguro che ci sia un cambiamento straordinario Mazzarri l'ha dimostrato di chi ha delle capacità però per questo Napoli non so non credo sia sufficiente speriamo bene ragazzi io vi ringrazio vi auguro una splendida serata e come sempre grazie per l'affetto per le domande per tutta la vostra diciamo partecipazione la fiducia che ponete in me io spero sempre di non deludervi e di darvi tutte le indicazioni che possono essere utili per fare una migliore strutturazione della propria operatività che sia di breve di lungo però ricordate quello che vi ho detto non lasciate niente a caso nonostante ciò si sbaglia ho stato anche io una settimana un po' dura i mercati mi hanno messo un po' a dura prova ho dovuto ho avuto anche io delle perdite che poi ho dovuto risolvere mi si sono allungate molto le giornate operative infatti sono veramente stanco purtroppo non si può essere al 100% io lo capisco però l'importante è non mollare poi il letto ci sta sempre per riposare importante è riposare bene quindi ragazzi noi ci vediamo anche per gli auguri natalizi dopo l'enuione della fed credo che sarà la settimana successiva quindi prima quella di natale così ci salutiamo noi ci vediamo qui su investire.biz quando capiterà non ho in programma altri webinar dovremmo fare qualche altra attività però questo poi lo chiediamo direttamente altri webinar no però mi trovate dappertutto mi trovate un po' dappertutto basta che vedete sul sito di investire.biz quando ci sono gli appuntamenti detto ciò forza a Bologna va bene auguri al Bologna buona serata e tutto che riguarda il trading bello il film della vita 1987 Wall Street con Michael Douglas c'è le scene quello per me è la bibbia dell'investimento tutto il resto sì sono interessanti c'è anche uno che si chiama Margin Call è molto bello quello mi è piaciuto molto 2010 con Kevin Spaces vi consiglio di vedere c'è anche Demi Moore Jeremy Iron ci stanno veramente attori di altissimo livello non mi sono piaciuti quello là sul The Big Short troppa è troppa scenata io se volete c'è qualche film bello secondo me il vecchio Gordon Ghecco non è intramontabile quindi cominciate da quelli poi volete intrattenere quel lupo di Wall Street ma quelli sono racconti di truffa non è che si dà un buon esempio secondo me però io vi dico quello che è penso ah i soldi degli altri bellissimo questo è del 91 molto bello gli attori erano Gregory Peck Danny De Vito non mi ricordo quella ragazza come si chiama vabbè mi piace un po' una bella una piccola cultura sul cinema ecco diciamo così va bene ragazzi è stato un piacere mi raccomando non fate disastri perché stiamo chiudendo l'anno se avete guadagnato proteggete i guadagni se non avete guadagnato studiate il perché e come correggere questi errori un abbraccio a tutti buona serata e al prossimo mese